ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi parleremo del supporto per sbagliatrici annulari della lidl giorno 11 marzo del 2021 verrà rimesso in vendita costo di 14 euro e 99 questa è la versione power fix ma parkside sarà praticamente identico l'unica differenza fra questo e quello parkside sarà la dotazione quindi verrà data una piccola chiave almeno questo ho visto dalle fotografie sull'applicazione per il resto sembra praticamente identico comunque il montaggio di questi supporti e l'utilizzo è uguale per tutti i modelli anche di altre marche cosa vi anticipo è un supporto che mi sembra ben fatto ovviamente costa 14 euro e 99 quindi non immaginate di avere fra le mani chissà che cosa di professionale è un oggettino che ci serve a ripetere i tagli mantenendo sempre la stessa angolazione e a proposito di angolazione vi anticipo che la morsa è di difficile regolazione non ci sono delle tacche ben precise quindi quando dobbiamo impostare i 90 gradi e 45 gradi fatti i nostri dobbiamo arrangiarci con qualche goniometro per ottenere l'angolazione corretta diciamo che una volta fatte le regolazioni una volta impostata ci permette di ottenere dettagli ripetuti fatti correttamente adesso però vi lascio il video del montaggio ho deciso di fare solo un taglio semplicissimo perché non interessa vedere la facilità nell'utilizzo è basta un taglio per capirlo diciamo che ci aiuta ma vediamo adesso appunto come si monta e l'utilizzo iniziamo all'interno della confezione quindi troveremo il manuale di istruzioni il supporto con la base impara scintille e un po di ferramenta iniziamo subito a montare il supporto sulla base abbiamo due viti a brugola basterà rimuoverle considerando il fatto che ormai i prodotti stanno passando tutti dal marchio power fix al marchio parkside spero ed ipotizzo che la qualità del modello nuovo abbia le stesse qualità di quello precedente infatti questo che ho fra le mani ha davvero una buona finitura e verniciato bene un ottimo peso il metallo lateralmente a uno spessore di 5 mm la stessa base invece mi sembra che ne abbia circa 3 comunque abbastanza pesante e robusto sulla parte bassa ci sono questi fori queste asolature che ci permettono di fissarlo e di regolarlo poi in base alle dimensioni alla forma della smerigliatrice che utilizzeremo vi consiglio di avvitare tutto senza stringere eccessivamente in fase di assemblaggio per poi fare le corrette regolazioni ok l'ho fissato provvisoriamente come avete sulla parte posteriore c'è una molla che riporta in posizione e supporto dopodiché dobbiamo fissare i supporti che terranno ferma la smerigliatrice come vedete c'è questa rientranza e deve combaciare con questa sporgenza quindi posizionandoli in questo modo ed inserendo la vita dalla parte opposta lo fissiamo provvisoriamente e facciamo la stessa cosa anche con l'altro per accelerare il lavoro di assemblaggio ovviamente tramite una chiave a brugola faremo molto molto prima ok quindi si lascia tutto in modo da poter regolare per bene sia il posizionamento che lo scorrimento degli stessi perché questi sono queste sono le staff che terranno ferma la smerigliatrice dopodiché va montata la protezione si inserisce questa barra filettata da questa parte si regola la lunghezza dopodiché si riavvita il dato dalla parte opposta infine si inserisce in questo foro dove c'è questo dadino che blocca la barra però questo lo faremo dopo a questo punto non resta che il montaggio di queste due strane barre filettate una alla gomma inclinata l'altra invece alla gomma dritta quella con la gomma inclinata ma messa sulla parte bassa va inserita in questo alloggiamento sagomato esagonale che al quale alloggiare il dato dopo di che si abita la stessa cosa si fa con l'altro quindi si inserisce qua a questo punto si può fissare la smerigliatrice angolare ovviamente va rimossa all'impugnatura svitandola e va utilizzato proprio il foro filettato presente sulla smerigliatrice da una e dall'altra parte questi due fori devono combaciare con questi due supporti proprio per questo motivo io ho detto di lasciarli lenti e che ci diano la possibilità di regolarlo alla distanza e all'inclinazione corretta che possa combaciare con la nostra smerigliatrice questa parte inclinata questa combina andrà appoggiare sulla parte inclinata comunque si adatterà all'inclinazione della parte bassa della smerigliatrice invece la parte dritta andrà appoggiare sulla parte del corpo quindi si fa in modo che combaci la parte filettata con il foro dopodiché si inserisce uno dei due bulloni dati in dotazione si stringe un poco non si deve abitare fino in fondo e la stessa cosa si fa dalla parte opposta adesso utilizzando una chiave misura 17 stringo questo contro dato lo stringo un poco senza esagerare dopo di che imposto la smerigliatrice regolo queste due gomme che devono andare appoggiare perfettamente sul corpo della smerigliatrice mantenendola ferma come vedete la parte inclinata ma appoggiarsi perfettamente sul sulla parte inclinata della smerigliatrice mantenendola perfettamente ferma quindi la stessa cosa faccio anche con l'altro possiamo decidere che inclinazione deve avere la nostra smerigliatrice per ottenere dettagli perfettamente a 90 gradi sulla parte opposta della barra filettata c'è un taglio questo ci consente tramite un cacciavite di agire regolando perfettamente l'eventuale inclinazione ok in questo modo si dà la giusta forza ok adesso a occhio ho regolato i 90 gradi ovviamente poi è una cosa che va fatta correttamente verificando tramite un goniometro che i 90 gradi siano perfetti rispetto alla base a questo punto montiamo la protezione che viene data in dotazione per poterla fissare dobbiamo svitare questo piccolo dato possiamo inserire la barra all'interno del foro e stringere nuovamente il dato per fissarla per bloccarla correttamente ormai è rimasta da inserire solamente l'impugnatura che ci permetterà di abbassarla si mette questo bulloncino da questa parte e si abita perfetto sembra che funzioni tutto correttamente in dotazione all'interno della confezione vengono date anche questi distanziatori che andrebbero messi da questa parte sulla parte frontale per evitare che la smerigliatrice vada a battere sulla morsa facoltativo facoltativo metterlo secondo me non è una cosa fondamentale più alcune boccole e altri bulloni di dimensioni differenti in base al tipo di smerigliatrice che utilizzeremo io vi consiglio di utilizzare se la vostra smerigliatrice angolare lo consente per dimensioni eccetera anche la protezione originale oltre a questa per poter regolare l'inclinazione della morsa alla base dovremmo agire su queste altre due viti a brugola allora i riferimenti per l'inclinazione sono praticamente quasi inesistenti e poco affidabili quindi anche in questo caso utilizzando un goniometro dovremo regolare il tutto sono semplicemente delle tacche grossolane con nessun numero riportato nessun riferimento vero e proprio la regolazione degli angoli ovviamente come ho detto poco fa l'ha fatto una volta poi fissata e rimarrà quella fino a quando non abbiamo necessità di cambiare eventualmente angolazione però la mossa si svita da questa manopola quindi si distanza si allontana avvicinando il pezzo questa parte mobile si adatta all'angolazione che diamo alla battuta ok e questo però mi piace abbastanza robusto e solido penso rimane fermo va bene a questo punto adesso da fare l'ultima regolazione vi ricorderete che all'inizio che ho detto di non fissare le due viti a brugola sulla base perché poi in base al disco in base al modello e smerigliatrice che utilizzeremo dovremo regolare il tutto infatti in questo modo andremo a tagliare anche alla morsa dovremmo per poter tagliare correttamente i pezzi utilizzando questa smerigliatrice quindi spostare il supporto sfruttando le asole mantenendo la protezione originale della mia smerigliatrice va a portare sulla morsa quindi verificate anche questo nel mio caso dovrò rimuoverla e dovrò utilizzare la protezione in dotazione che non è granché inoltre tende a svirgolare verso l'esterno quindi o con un forno comunque una pistola a caldo o comunque con le mani cercate di deformarla in modo che vada proprio davanti alla lama adesso l'inquadratura un po di lato però vista frontale è così quindi protegge in parte dovrebbe essere obiettivamente spostata in questo modo per proteggere correttamente supporto andrebbe fissato su una superficie stabile io farò solamente un paio di tagli quindi la terrò qua sul bancone e bisognerebbe fare attenzione utilizzando la corrente elettrica che i cavi non ci intraccino e non ci sia il rischio che vengano tagliati infatti questa parte di dietro serve proprio ad alloggiare il cavo elettrico fare in modo che vada da tutt'altra parte anziché andare davanti dove c'è il disco da taglio ok siamo pronti a fare la prima prova di taglio assicuratevi che tutto sia fissato correttamente non abbiate dimenticato nulla delle viti che vanno montate per le quali potete all'inizio di non sterrare in modo energico allora l'accendo e ovviamente come è prevedibile ha eseguito il taglio correttamente c'è da regolare perfettamente l'angolazione sia della morsa e l'inclinazione della disco quindi tutta la smerigliatrice agendo sulle due barre filettate ma questa è una cosa che ovviamente poi va fatta e personalizzata su ogni singolo supporto è stabile permette di realizzare dettagli in sequenza quindi anche tagli molto piccoli proviamo a vedere la precisione del taglio ok proviamo ad eseguire questo taglio un po assurdo che mano libera non ci riuscirebbe mai un po assurdo che non ci riuscirebbe mai e questo è quello che volevo farvi vedere cioè riuscire ad eseguire dei tagli di precisione che ovviamente con l'angolazione corretta poi saranno ancora migliori però un taglio di questo tipo a mano libera è impossibile da ottenere quindi se abbiamo bisogno di precisione di fare tagli ripetuti solo un supporto di questo tipo può consentirci di realizzarli e allora come vi dicevo questo è il taglio che sono riuscito ad ottenere un taglio praticamente impossibile da ottenere a mano libera stiamo parlando di forse un millimetro di spessore ma forse anche di meno e questo supporto mi ha consentito di ottenere senza alcun problema perché ci consente di eseguire dei tagli anche ripetuti con la massima precisione ho voluto verificare con il goniometro digitale come mi era venuto il taglio per vedere se avevo impostato correttamente il goniometro sulla base sono riuscito a impostarlo a 90 gradi esatti 90 gradi esatti comunque questo ci dimostra che se riusciamo a impostare 90 gradi ovviamente poi avremo 90 gradi ogni volta che seguiremo i tagli successivi infatti poi questo è il pezzo da cui io ho rimosso la fettina sottilissima abbiamo 89 gradi e 6 in questo caso forse in base a come lo posizionato sulla morsa comunque siamo molto vicino ai 90 gradi e quando si tratta di metallo da saldare sapete meglio di me che queste micro imperfezioni non influiscono assolutamente si utilizzano magneti eccetera quindi poi l'alternativa a questo eventualmente se non abbiamo altri strumenti sarebbe quello del taglio a mano quindi secondo me può andare bene non vi nascondo che la regolazione comunque dell'angolo è un po macchinosa perché si muove intanto la morsa libera di scorrere avanti e indietro e inoltre va oltre 45 gradi quindi ci permette di fare dettagli davvero quasi estremi e il riferimento dei 45 gradi non corrisponde a nulla quindi bisognerà impostare un goniometro digitale o qualunque altro tipo di goniometro a 45 gradi e dopo di che l'unico modo che abbiamo è quello di allinearlo a una delle parti dritte del supporto quindi o a questi segni in questo modo facendo da battuta insomma è davvero un pochettino complesso e dopo di che si devono stringere di nuovo le due viti a bruola e allora ragazzi quindi cosa dire di questo supporto come avevo anticipato è un supporto che ci accelera il lavoro però è difficile regolare gli angoli il paracintilla non è proprio il massimo come messo ma questo un po in tutti ma un po regolato per il resto però sembra che sia un supporto ben fatto io l'ho visti più di uno già ne ho un altro quello già recensito anche di quello che lascerò link in descrizione e qua sua parliamo una scheda è anche nel primo commento per poter vedere il video e anche quello aveva gli stessi problemi diciamo che forse quello è un po più pesante un pochettino più massiccio ma costava anche tre volte tanto questo secondo me è un supporto che a parte la sicurezza nell'utilizzo perché la protezione quella che è non è proprio l'oggetto più sicuro che possa esistere però se utilizzato con le protezioni adeguate ci può regalare dei tagli che nell'ambito della saldatura possono andare benissimo perché un taglio fatto a 45 oa 44 o 46 gradi nella saldatura influisce davvero pochissimo poi ovviamente più sono dritti i tagli meglio ci verrà il lavoro per il resto spero che questo video vi sia servito a farvi un'idea su questo prodotto spero anche che vi sia piaciuto e lo abbiate ritenuto utile e vi abbia fatto compagnia quindi vi invito a mettere mi piace qua giù vi invito ad iscrivervi nel mio canale vi invito anche a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche ricevere un email ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo ai prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto